E si comincia, è iniziata Nuova Ischia, Monte di Procida. Cuomo toccherà il pallone per Ciro Saurino. Eccolo il tiro di Ciro Saurino, di poco a lato. Attenzione, ancora al Monte di Procida, il tiro! Restra dalle parti di Di Matteo. Attenzione a Di Matteo che si accentra. Saltato Silvitelli, Di Matteo, il tiro col sinistro, alto. Tameria, la carità. Seguiamo però questo calcio di punizione. Pallone in mezzo, attenzione a Ciro Saurino! Nuova Ischia in vantaggio. Al minuto 23 di Ciro Saurino, giunto al minuto 23. Attenzione adesso, colpo di testa di Arcobelli per... Colpo di mano, calcio di rigore netto. Netto, grande azione di Filosa. Parte Camorani! 2-0 della Nuova Ischia. Casolare al rilancio, salta di Costanzo, pallone che resta lì. Attenzione ad Auria, poi Palma, colpo di testa per Di Matteo. Di Matteo è troppo in aria, ma arriva Silvitelli! Contro un avversario sicuramente importante. Attenzione al pallone in mezzo, il tiro! E attenzione, volevano un calcio di rigore i giocatori del Monte di Procida. Il secondo tempo tra Monte di Procida e Nuova Ischia. È stata proprio una grossissima idea. Attenzione ad Arcobelli, trattenuto. Resta ai piedi Arcobelli, scarico su Marano. È tutto solo. Filosa, il tiro che è parata! Non è finito Arcobelli! Miracolo del portiere! Poi c'è il fischio. Cinque uomini in barriera scelti da Mennella. Parte Palma. E c'è il gol! Del Monte di Procida che accorcia le distanze. E' da attributire a Filosa. Attenzione a Cuomo, sulla fascia di destra. Pallone filtrante per Paradiso. Occhio in mezzo! Lì, ha spazio sulla fascia sinistra. Il terzino sinistro di Sidoro di Meglio. Pallone in mezzo per Marano. Ancora Marano! Salvataggio sulla linea. Utto, poteva servire Ciro Saurino. Attenzione adesso a Palma. Tocco di prima. Occhio a Dauri al tiro! Di poco a lato. Spazio sulla destra. Sta recuperando però il Monte di Procida. Pallone in mezzo per Arcobelli. Attenzione ad Arcobelli. Ancora una parata. E poi il gol! Filosa! Filosa! 3 a 1 Nuova Ischia. Poi Palma sulla fascia sinistra. Punta del Deo. Ancora Palma. Va sul fondo. Il cross basso. Attenzione al tiro! Attenzione al fischio dell'arbitro. Ancora Palma. Traiettore a rientrare. Mi sa che Mennella l'ha toccata. Angolo. Finisce qui! La partita. La Nuova Ischia vince. 3 a 1. E conquista il secondo posto.